Una settimana fa l'incidente stradale, mercoledì, il decesso. Il cuore di Lucia Cancro ha cessato di battere nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Frosinone. Atena Lucana attende la salma per l'ultimo saluto. Sarà rilasciata dopo l'autopsia, disposta dall'autorità giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo il sinistro avvenuto lungo la A1 Milano-Napoli nei pressi dello svincolo di Anagni. La donna, insieme al marito, era andata a Roma per prendere il figlio poliziotto. Durante il viaggio di ritorno, l'auto sulla quale viaggiava la famiglia di Atena Lucana sarebbe rimasta coinvolta in un tamponamento con un'altra vettura. Il figlio è rimasto illeso, il marito ha riportato lievi ferite agli arti. Le condizioni della donna, sessantenne, sono apparse da subito gravissime. È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e un altro era stato programmato per questi giorni. Purtroppo Lucia Cancro non ce l'ha fatta a rimanere attaccata alla vita. Buttando nello sconforto l'intera comunità di Atena, dove era ben voluta e stimata. Da tempo portava avanti la sua lavanderia aperta alla frazione Scalo. Il marito è dipendente comunale, prossimo alla pensione. Oltre al figlio poliziotto, lascia una figlia. Anche lei vive a Roma come il fratello. La salma si trova presso la sala mortuaria dell'ospedale di Frosinone a disposizione dell'autorità giudiziaria.